Il pericolo Ecco dove si nasconde il pericolo. In una zona 30 i pedoni non hanno la precedenza, ma possono attraversare la strada ovunque. Per questo potreste trovarvi improvvisamente davanti un pedone. Ecco come evitare il pericolo. Nei punti poco visibili procedete lentamente. Fate attenzione e siate pronti a frenare. In questo modo potrete reagire correttamente in caso di emergenza. La città di Zurigo vi augura buon viaggio!